Grazie a tutti. Siamo al via al primo incontro di questo ciclo di interventi, fatto proprio per andare ad analizzare e situare la crisi pandemica che stiamo attraversando, una crisi che nelle ultime settimane ci sta palesando tutte le varie sfaccettature, le varie contraddizioni di questo sistema. Ce lo sta palesando in una maniera anche estremamente violenta, portando all'estremo quelle che sono tutte le sue caratteristiche. Lo vediamo appunto a partire da una quarantena e da cosa voglia dire, realmente anche semplicemente un decreto che dice io resto a casa, ma che appunto porta in sé una marea di contraddizioni rispetto appunto a cosa voglia dire, dover stare in una casa, a chi una casa non ce l'ha e cosa sia di fatto la vita dentro alle case delle persone e di quanto il lavoro di cura ricada ancora di più sul ruolo della donna, di quanto si sia palesato lo sfruttamento dei lavoratori sempre per perpetuare invece il profitto delle grandi industrie. Questi sono solamente alcuni esempi delle numerosissime contraddizioni che questa crisi ci sta mostrando rispetto a questo sistema, che è un sistema costruito su disuguaglianze, su relazioni di dominio, un sistema che è lo stesso, che di fatto ha prodotto questa stessa crisi con cui ci stiamo interfacciando, un sistema che è un sistema che ha furia di sfruttare vita e territori su questo pianeta, ha distrutto ecosistemi, ha distrutto anche gli equilibri fra le specie e di fatto sta rendendo la vita su questo pianeta al limite del possibile, appunto questa terra sta diventando un luogo letteralmente inospitale. E quindi con questo ciclo di interventi vogliamo andare un po' ad analizzare quelle che sono tutte le cause, le conseguenze rispetto a questa pandemia, ma anche andare a vivere un mondo nuovo, appunto un mondo dove finalmente la vita, la salute e la salvaguardia dei territori possa finalmente essere al primo posto, al posto del profitto invece, come ancora una volta, come dicevo, in maniera estremamente violenta ci sta venendo palesato in queste settimane. Quindi oggi con questo primo contributo andremo ad analizzare insieme a Maura Benegiamo, una ricercatrice studiosa che ha lavorato in veramente numerosissime parti del mondo e che al momento lavora a Parigi, al Collège de Tout Mondial, e con lei andremo ad analizzare proprio come il sistema capitalista, neoliberista accumuli profitti dai rischi, dalle crisi che si stesso produce e quindi poi come il Covid-19 possa leggersi come una particolare espressione di una crisi ecologica e climatica globale e quindi quanto questo rimetta al centro ancora una volta i movimenti che si battono per la giustizia climatica, che fanno lotta ambientale per l'appunto, che da tempo criticano questo modello di accumulazione estrattivista che si incentra proprio sull'estrarre valore in maniera diffusa e violenta in base alle contingenze e regolando le relazioni tra le comunità umane e la biosfera. Tutto questo sempre a scapito dei territori, delle minoranze, dei più poveri, perpetuando quello che è un agire di sfruttamento continuo. Questo appunto come scenario ci appare sicuramente come oscuro, ma come dicevo anche prima, evidenzia anche uno spazio d'azione per quei grandi conflitti sociali che possano appunto trovare lo spazio per discrepare questo modello sempre pronto a reinventare il proprio sfruttamento. Quindi mi fermo qui e passo direttamente la parola a Maura. Ciao, grazie Giovanni. Mi sentite intanto? Mi si sente? Ok, spero di sì. Ok, perfetto. Allora, intanto ringrazio Giovanni per l'introduzione e voglio dire che sono molto contenta di poter intervenire in questo ciclo di seminari che ha appunto l'obiettivo anche di poter inquadrare la mia e la gestione associata dentro il prisma dell'ecologia politica, ovvero dentro quel filone di analisi che da un lato esamina le relazioni tra capitalismo e natura in termini direttamente politici e dall'altro mette al centro le forme delle resistenze e di conflitto che investono i cosiddetti rapporti socio-ecologici. Mi sembra interessante intanto poter mostrare che cosa la prospettiva dell'ecologia politica apporta come lettura e può portare come lettura a questo ciclo, scusate, a questa pandemia e isolare poi magari due aspetti su cui cercherò di concentrarmi. Metto un secondo il tempo in modo da non sforare troppo. Allora, in tutto rispetto diciamo anche alla prospettiva marxista da cui l'ecologia politica comunque muove e in qualche modo quello che l'ecologia politica permette di fare è di pensare la crisi non semplicemente in termini economici ma come una crisi ecologica e sociale da un lato e dall'altro lato di pensare la crisi ecologica come una crisi prodotta e al contempo stesso interna al capitalismo. In questo senso il passaggio che secondo me è interessante andare a rimarcare è che all'interno di questa lettura la questione ecologica non si pone semplicemente in relazione al sistema di produzione, in relazione al capitalismo ma essa in qualche modo è la forma che il capitalismo assume nella sua fase più avanzata. Cioè noi potremmo addirittura dire che il capitalismo è e si presenta oggi più che prima come una crisi ecologica. Questa visione parte appunto, l'abbiamo detto anche nell'introduzione, l'ha detto anche Giovanni dall'idea che non sia possibile pensare alla questione ambientale come separata dall'organizzazione che la nostra società fa dei nostri modi di produrre e di consumare e viceversa. Cioè non è possibile pensare il nostro modo di produrre, il nostro modo di stare assieme in termini non ecologici, cioè scissi dalle relazioni che noi intratteniamo sia con gli altri, con gli esseri umani e non umani, sia con noi stessi all'interno di una particolare ecologia del sé in cui ci possiamo situare. E quindi, come abbiamo detto anche prima, questo ci permette di espandere le indicazioni politiche provenienti dalla critica all'economia politica di stampo marxista mostrando da un lato la relazione molto stretta che tutti quei conflitti che investono i rapporti socio-ecologici, quindi dalle questioni legate all'organizzazione della cura, della produzione del cibo, della salute, dall'abitare, quindi tutti questi spazi conflittuali sono in stretta relazione con la maniera in cui noi organizziamo il nostro sistema produttivo e in particolare con una società che si fonda su un'economia che ha come obiettivo l'accumulazione e quindi è votata alla crescita. Dall'altro lato, quello che questi conflitti ci mettono davanti è una sorta di out-out, nel senso che non è possibile trovare una mediazione attraverso una maggiore redistribuzione per quanto importante o attraverso una maggiore redistribuzione che di solito si è sempre giocata su un aumento della crescita. In che senso non si può trovare una mediazione? Perché secondo me questo è il principale insegnamento su cui anche l'ecologia politica poggia e che ci viene soprattutto dalle lotte, dalle analisi femministe e postcoloniali è l'idea che il capitalismo si muova sempre e per forza lungo un asse che si può concepire come un asse, come dire, come un rapporto tra valorizzazione e svalorizzazione, sfruttamento e spropiazione. Cosa vuol dire? Che se qualcosa assume valore, assume importanza all'interno dell'economia, della società capitalista, per esempio quando si inizia a dare un valore ai rapporti di cura, dandogli un prezzo, trasformandoli in un servizio, monetizzandoli anche, c'è sempre qualcosa che viene svalutato. In questo caso sono per esempio le situazioni precarie di chi poi fisicamente si trova a dover prestare questi servizi o di chi viene escluso da questi servizi e sono sempre dei corpi razzializzati e dei corpi femminili. Quindi per concludere brevemente questa introduzione, quello che vorrei mettere a fuoco è che all'interno di questo quadro che l'ecologia politica ci dà, cioè il capitalismo come un progetto di messa in forma della natura attraverso una dinamica che si muove sempre tra valorizzazione e svalutazione, attraverso questo quadro mi sembra di poter situare anche l'analisi appunto e la riflessione sull'attuale pandemia. In particolare quello che mi piacerebbe, su cui vorrei tentare di concentrarmi in questo intervento sono su due dinamiche centrali che secondo me sono evidenziate dalle dinamiche in corso. La prima è che il nodo centrale, il nodo che emerge all'interno di questa crisi sanitaria è appunto la relazione molto stretta che esiste tra crisi e capitalismo, però questa relazione emerge oggi, cioè è possibile oggi individuare anche la forma storica che questa relazione assume nel contesto del neoliberismo ed è una dimensione che è strettamente correlata all'idea di rischio, tanto che potremmo definire il capitalismo attuale come una particolare forma di capitalismo che si gioca, che si instaura, che instaura una relazione particolare con il rischio e che del rischio fa anche appunto la sua, come dire, la sua, la sua prospettiva più speculativa. La seconda questione che affronterò in un secondo momento è il processo di esclusione e l'aumento, diciamo, del margine di esclusione che queste dinamiche implicano. Allora, per quanto riguarda la relazione tra rischio e capitalismo, due secondo me sono i punti da sottolineare. Cioè, il primo è che è stato detto in realtà in moltissime analisi ultimamente ed è il fatto che c'è una strettissima correlazione tra aumento, diciamo, delle minacce sociali, dei rischi ecologici di cui questo coronavirus e di cui questa particolare pandemia è un'espressione. L'aumento, diciamo, dell'incidenza di queste situazioni è strettamente legato alla pressione sempre crescente che l'economia ha sugli ecosistemi. È stato detto che le foreste sono, per esempio, degli antivirali naturali eppure i processi di deforestazione sono in continuo momento. È molto importante, secondo me, anche rendersi conto che nonostante, per esempio, l'economia industriale sia un'economia in forte recessione da anni, il peso che questa economia ha sugli ecosistemi non è regredito, perché sostanzialmente, pur se in recessione, c'è sempre bisogno di estrarre nuova energia e di aumentare appunto il livello di estrazione e dall'altro lato abbiamo il settore agroindustriale, che è stato fortemente chiamato come responsabile appunto della devastazione ecosistemica, si è ritrovato soprattutto negli ultimi 30 anni a dover aumentare enormemente i processi di deforestazione, ad allargare enormemente, diciamo, l'estensione delle superfici coltivate, sempre coltivate a monoculture, e questo l'ha fatto perché i metodi, le tecniche di coltivazione agroindustriale sono delle tecniche che impoveriscono enormemente i terreni e quindi richiedono non solo un'intensificazione della produzione, ma anche un'estensione della superficie coltivata. Allo stesso tempo anche le dinamiche finanziarie e le bolle finanziarie hanno sempre bisogno di ricadere sui territori attraverso, concretizzandosi o in grandi opere, in cementificazione o appunto anche in accapparamenti di nuove terre, quindi questo semplicemente per dire che la crescita economica si è prodotta sempre a discapito diciamo degli equilibri ecologici. Quindi il carico ambientale esercitato sugli ecosistemi ha continuato ad aumentare. Se però, se questa crisi può essere, come dire, vista come un risultato di questo aumento del carico, essa si inserisce allo stesso tempo in una dinamica che è in corso da più tempo e che è appunto quella che potremmo definire come l'idea della relazione tra capitalismo e rischio. Io l'ho chiamata capitalismo del rischio, ma insomma è una definizione su cui poi ci si potrebbe lavorare. Al centro, diciamo, per poterla riassumere in un'espressione, al centro di questa riconfigurazione della relazione tra capitalismo e rischio, c'è l'idea quasi paradossale che se fino adesso il credo progressista si era, quindi l'idea insomma che andava a sostenere, a giustificare socialmente il progresso e quindi la crescita, quindi se il credo progressista si era fino adesso incentrato sull'idea che la società, sull'idea molto dualista, che ci fosse una totale controllo, un totale, la società umana, anzi la società occidentale in qualche modo, potesse produrre un dominio totale tecnico della natura, oggi paradossalmente, visto che questo dominio tecnico ha comunque portato l'aumento esponenziale dei rischi e delle crisi, oggi quello che si cerca di socializzare è l'idea che il rischio sia qualcosa di completamente naturale, o se non di completamente naturale, di qualcosa di comunque inevitabile, qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. E questa è un'idea, secondo me, molto pericolosa, perché è su questa naturalizzazione che si instaura anche la necessità di un governo tecnico, diciamo, di questo rischio, mentre non si va mai, si oscurano completamente le cause. Io penso che sia interessante andare un attimo a ripercorrere la modalità in cui il capitalismo, ma più in generale, più in particolare, anzi, il pensiero neoliberista, ha prodotto questo percorso, diciamo, di naturalizzazione del rischio. E per comprendere questo, secondo me, è importante andare a rientracciare l'evoluzione di questa relazione nella maniera in cui il pensiero neoliberista si era portato propriamente alla questione della crisi ecologica, che ovviamente per il capitalismo non si rappresentava tanto quanto una problematica sociale, ma quanto la cosiddetto spauracchio, se lo vogliamo dire così, dei limiti della crescita dovuti all'esaurimento progressivo, diciamo, delle risorse naturali, ma soprattutto alla difficoltà di procurarsene ad un costo sempre minore. Sintetizzo di molto, poi magari se ci sarà un dibattito potremo in caso rivenirci. Quello che si è prodotto all'interno delle teorie neoliberali è stata la modalità con cui la disciplina economica ha definito le relazioni tra crescita e crisi. Cioè è predominata l'idea che andando a promuovere l'idea che essendo impossibile rimuovere le cause strutturali dei rischi bisogna partire dal presupposto che crisi ed espansione debbano essere sempre complementari e che il loro legame sia un po' la forma naturale della crescita. Questo processo si è basato su una ridefinizione dell'idea di limiti, cioè dell'idea che fondamentalmente i limiti di un sistema, cioè i limiti contro cui oltre i quali un sistema non potrebbe espandersi, non sono qualcosa di definito, ma qualcosa che può essere continuamente definibile, ridefinibile, dal progredire del sistema stesso. La modalità in cui, quindi in questo processo di ridefinizione del limite, la crescita si solleva anche verso il tentativo concreto di andare a ridefinire costantemente questo limite. Io faccio un esempio molto semplice perché è più facile capirsi in questo modo. Quando c'è stata l'ultima crisi, la crisi economica, la grande recessione del 2007-2008, ci sono stati due processi, come dire, che sono stati centrali all'interno delle forme di risposta sistemica. Da un lato, quello che abbiamo visto più qui in Europa o nel mondo occidentale, c'è stata l'idea che, c'è stato il tentativo, insomma, di salvare sostanzialmente l'economia finanziaria attraverso attraverso l'innessione, insomma, di denaro all'interno per salvare i grandi istituti di credito. Ma parallelamente si è prodotta l'idea, si è rafforzata quell'idea che è centrale alle teorie della green economy, della bioeconomy, che i processi di crescita dovessero instaurarsi sempre di più, appunto, andare a speculare su quel limite sistemico, quindi andare a promuovere forme di manipolazione del vivente, come la manipolazione genetica, la manipolazione delle cellule, per andare a rispondere ai rischi creati precedentemente dalla crescita. concretamente un esempio molto chiaro di questi sono i processi che sono in atto all'interno di quella che è la nuova rivoluzione verde. Se la prima rivoluzione verde prevedeva in qualche modo era soprattutto incentrata sull'utilizzo delle biotecnologie per aumentare i rendimenti dei terreni, nella nuova rivoluzione verde quello che noi vediamo in atto sono i tentativi di andare a manipolare geneticamente gli organismi viventi, ma anche gli animali, i batteri, per fare fronte a problematiche di tipo sociale e sanitario, per esempio per andare a rispondere all'aumento delle malattie come la malaria, che sono appunto legate anche alla distruzione ecosistemica, oppure per andare a aumentare la resistenza delle piante ai rischi climatici, quindi c'è tutta una ricerca che si sviluppa intorno al tentativo di trovare piante più resilienti alle siccità o in grado di rispondere a condizioni climatiche estreme. Quello che vediamo in sostanza è l'idea che l'unica maniera di fare fronte alle problematiche che la crescita pone è quello di andare a lavorare su questo limite in modo da espanderlo, spostando la linea un po' più in là. Un esempio, un'altra maniera molto banale di intendere questo processo è l'idea per esempio per cui non c'è un problema reale nell'aumento del consumo di plastica nel momento in cui riusciremo a trovare dei batteri che mangeranno quella plastica. C'è tutta una ricerca su questo. Ora, poco importa se poi magari il lavoro speculativo che viene fatto su queste forme batteriche andrà a creare o generare degli altri impatti perché a quel punto potremmo continuare ad evolvere il sistema e continueremo diciamo a rispondere aumentando la relazione tra crescita e complessità e andando ad integrare come completamente naturale l'idea che comunque la società debba esporsi a dei rischi per poter andare avanti. Non lo so se sono stata completamente chiara ma spero non vedendo i volti davanti è un po' difficile cogliere. Passo velocemente al secondo punto perché sono in chiusura forse anche ho superato i 20 minuti il concetto è quindi che più il capitalismo devasta più cose possono succedere. Quindi proprio perché ha continuato a devastare e ha continuato invece che a fare diciamo dei rischi il motore della crescita il capitalismo si trova oggi a gestire questa crisi. Come la gestisce? La gestisce nel modo che ha in cui il capitalismo ha sempre gestito le crisi e cioè da un lato scaricando nel peso sulle fasce più debole della popolazione e dall'altro cogliendole come opportunità per come dire cogliendole come opportunità non tanto per innovarsi ma quanto per continuare a rilanciare dei cicli di crescita. In questo contesto e vado a chiudere due cose vanno sottolineate secondo me la prima è il fatto che il capitalismo deve essere inteso sempre come un sistema e quindi non è una struttura omogenea quindi il fatto che ci siano dei conflitti anche all'interno diciamo di quello che è l'ambito della produzione che per esempio alcune attività andranno pagheranno alcune attività produttive possono essere duramente colpite da questa crisi e ci saranno delle grosse perdite economiche non è di per sé non è sufficiente a dire che questa crisi è come dire colpisce il capitalismo in sé perché appunto il capitalismo chi è invece più interessato a queste forme speculative sul rischio probabilmente si trova in conflitto con chi invece ha altre prospettive produttive all'interno all'interno del sistema dall'altro lato e qui vado a chiudere è il fatto che quello che è opportuno rilevare è che oramai però questa crisi quello che mette in evidenza è il fallimento totale anche di una della forma diciamo della civilizzazione occidentale che è strettamente legata appunto alla alla fortalismo e ormai siamo arrivati al punto in cui anche il centro privilegiato del sistema quindi quell'uomo bianco occidentale si trova un po' con l'acqua alla gola in questa situazione la la giustificazione sociale del capitalismo è sempre più si riduce al minimo e quindi diventa impellente ormai diventa evidente come dire alla grande maggioranza della popolazione l'insostenibilità del sistema ovviamente è letteramente conflittuale perché come vediamo siamo confrontati tutti i giorni al tentativo appunto di mettere diciamo su questa crisi un'altra narrazione che è un po' quella che ho cercato di spiegare cioè che l'idea che il rischio sia qualcosa di congenito e che non dobbiamo porci la domanda di da dove viene e come abbiamo fatto detto banalmente a ridurci così e quindi penso che uno spazio forte anche di azione sia proprio nel cercare di fornire una narrazione che contrasti e che metta nudo queste contraddizioni non lasciando non lasciandoci raccontare la come dire la menzogna che noi con queste crisi ci dobbiamo convivere perché perché non ci dobbiamo convivere e io chiuderei qui ok allora intanto ringrazio Maura per il bellissimo contributo veramente puntuale e invito anche chi ci sta seguendo in questo momento ad andarsi a leggere un articolo che è uscito proprio oggi scritto appunto da Maura su comuneinfo.net che parla anche delle tematiche che abbiamo trattato oggi e detto questo appunto vi ringrazio nuovamente Maura e vi invito anche a continuare a seguire questo ciclo di interventi con il prossimo appuntamento che si darà questo venerdì venerdì 10 sempre alle 18 sarà sempre possibile dall'evento e dalle varie pagine di ecologia politica che ricordo anche che da diretta come le altre verranno fatti dei azioni quindi sarà possibile sentirle in qualunque momento successivamente se ce le perdiamo insomma detto questo appunto ricollegandomi un po' anche a una parte di intervento finale di Maura in cui si faceva riferimento anche a una certa figura quella dell'uomo bianco cis europeo cattolico quella figura che si ritrova un po' con l'acqua alla gola e speriamo che incarna un po' quel soggetto cosiddetto normale che di fatto anche ha regolato finora quella che viene definita come la normalità appunto che è sicuramente un qualcosa che in molti e molte ci stiamo rendendo conto essere ciò che ha prodotto la situazione nella quale ci stiamo ritrovando adesso e che è sicuramente qualcosa verso cui non andiamo a ritornare ma anzi che vogliamo decostruire e cambiare quindi proprio parlando di normalità nell'incontro che avremo venerdì avremo la testimonianza di un attivista attivo sul territorio di Taranto che è Michael Tortorella andremo a parlare proprio di riguardo a Taranto rispetto alla normalizzazione del dolore della morte appunto come pratica che a Taranto ahimè è appunto un qualcosa che viene perpetuato da tempo e come anche adesso ci stiamo ritrovando a vedere su scala molto più ampia appunto questa normalizzazione delle crisi che il sistema neoliberista e capitalista produce ovvero farla apparire come qualcosa di normale e al limite di casuale su cui appunto non non ci siano responsabilità di di alcun tipo quindi appunto io ribadisco l'invito a seguire la prossima diretta che appunto come dicevo sarà venerdì e con questo ci saluto ancora grazie Maura e ciao a tutte e tutti grazie a tutti